C'è molto da fare. Soprattutto per questa terza convinzione, che non è solo luce di fede, ma anche di ragione e di memoria. L'umanità cieca ha bisogno di questa luce. Per noi persone di fede e che si sforzano di guardare verso l'alto, come ci ha detto il Papa oggi all'Angelus, che l'universalità di questo male sia superata dall'universalità della preghiera, della compassione e della tenerezza. A noi persone di fede e in particolare che si ispirano a San Pio, a Padre Pio, di essere intercessori di preghiera. Il termine preghiera arriva dal latino prece e ha la stessa etimologia di un altro termine che è precario. La preghiera ci ricorda che siamo precari, tutti, tutti, cominciando da me. Ma la preghiera raggiunge il cuore di Dio e Dio può raggiungere poi il cuore di ogni uomo.